altro bigliettino altro argomento allora molle e ammortizzatori mi avete chiesto sulle ammortizzatori sulla parte anteriore quindi prendo la palla dal balzo per fare un discorso integrale su tutto il sistema di sospensioni del camper innanzitutto iniziamo a dire che i nostri mezzi quindi i nostri camper hanno un sistema di ammortizzazione costituito nella parte frontale da un sistema molle più ammortizzatori con l'ammortizzatore montato dentro la molla quindi vedrete il sistema della molla con all'interno l'ammortizzatore che scorre per fare l'ammortizzazione e invece nella parte posteriore ci sono dei fogli di balestra e dei tamponi che servono per il fine corsa quindi la balestra ammortizza e lavora flettendo ok poi quando arriva al massimo della pressione per non andare oltre ci sono dei tamponi che la bloccano e non lo fanno andare oltre quindi questo è il sistema tipico di quasi tutti i camper che sono in commercio e a proposito di questo quanti ricordi di molle ammortizzatori sostituiti per migliorare la dinamica di guida all'assetto l'altezza da terra per avere un passo uno stacco tra il pneumatico e il passorota molto più stretto addirittura poter far entrare il pneumatico all'interno del passorota è stata una lunga lunga storia di auto avute l'ultima sostituzione mia è sulla macchina che ora fra l'altro a questa ho messo un kit molle di ammortizzatori per alzarla di cinque centimetri per avere una maggiore altezza da terra è un fuoristrada e quindi mi piaceva averlo più alto gli ammortizzatori originali sinceramente iniziavano a sentire un pochettino la vecchiaia non tanto però iniziavano a sentirla centomila chilometri quindi pochi però un pochino non la sentivano e ho preferito sostituirli con alcuni più performanti visto che c'ero e per avere anche un escursione molto più ampia del pneumatico quindi quando va in twist riesca avere una trazione migliore comunque lasciamo perdere questo settore e veniamo ai camper per chi non l'ha ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale qua sotto sulla scrittina iscrivetevi ed attivate la campanellina così avrete tutte le notifiche sui nuovi video appena pubblicati lasciate anche sotto dei commenti mi piacciono mi piacciono mi piacciono tantissimo così vedo cosa ne pensate dei video e vedo cosa volete che io racconti nei prossimi video gli argomenti da affrontare diciamo che tra i due sistemi di ammortizzazione quello che crea più problemi nel mondo del camper è quello posteriore i problemi aumentano sul posteriore con l'allungarsi del camper quindi più è lungo più avrà problemi e con l'aumentare chiaramente del peso che portiamo dietro se in garage mettiamo una moto uno scooter le bici elettriche cioè hanno un peso abbastanza ingente e quindi graveranno molto di più sulle parte posteriore e ancora di più se poi mettiamo un gioco magari un traino che a questo punto in un traino un trailer un caravan o che sia un rimorchio per il trasporto di moto quello che volete a questo punto l'oscillazione crea veramente dei grossi problemi e questo aumenta a dismisura il problema degli ammortizzatori posteriori una balesta io non la ritengo mai un ottimo sistema di ammortizzamento in quanto a seconda di quanto è carico la parte posteriore cambia completamente le sue dinamiche di funzionamento se siamo troppo scarichi farà saltare l'asse perché troppo rigida quindi tendrà a far saltare l'asse mentre se è troppo carica non lavora e quindi cede e saremo fissi a tampone quindi non è un sistema che a me piace molto però questo ci viene dato a questo chiaramente dobbiamo sfruttare ora nel nostro caso diciamo che cambia poco perché la balesta poveraccia quel foglio o due fogli che siano tre fogli comunque poco cambia lavora sempre sotto stress e spesso è a lavorare sul tampone quindi toccherà sempre il tampone qui su questo sistema di ammortizzazione vedo giusto la necessità di intervenire e dovrebbe secondo me già esser fatto dalla casa costruttrice in quanto un camper non è un sistema leggero come può essere il furgone ducato che esce che sarà peso 20 quintali e quando poi viene caricato tutto arriva a 30 32 35 quintali ma qua siamo già di partenza sui 30 quintali 28 e in ordine di marcia saremo 35 37 40 dipende anche chi è anche 40 quintali quindi dovrebbe essere previsto un sistema di ammortizzamento ideale per viaggiare a 35 quintali senza problemi cosa che invece non viene fatta ora io in questi sei anni che ho questo camper sinceramente non ho mai fatto questo tipo di interventi perché le balestre sono sempre state abbastanza efficienti devo dire che pian piano si stanno un po stancando e quindi stanno un pochino scendendo e chiedono un aiuto diciamo così iniziano a chiedere un aiuto negli anni piano piano hanno sceduto un pochettino sono sempre diciamo secondo me valide non hanno ancora un grande problema però sinceramente se aggiungessi dei soffietti delle sospensioni ad aria sicuramente il risultato sarebbe ottimale questi soffietti sono dei cuscinetti ad aria delle sospensioni ad aria che vengono inserite tra il foglio di balestra e il telaio al posto del tampone quello originale e consentono di poter essere gonfiate o sgonfiate secondo le necessità e di creare sia una diversità di altezza da terra e quindi poter aumentare l'altezza da terra del veicolo che compensare il carico in maniera più sostanziosa rispetto alla balestra stessa attenzione a non installare dei sistemi troppo rigidi di questi sospensioni ad aria altrimenti la comodità verrà molto meno e diciamo dentro le scosse tutte le esperità del treno verranno trasmesse molto di più e quindi si creano dei problemi anche strutturali a volte che bisogna stare un pochino attenti e non scegliere una sospensione che sia troppo rigida deve essere un giusto compromesso e se qualcuno comunque ha dei dubbi su questo sistema di ammortizzamento che dice che non è valido e non funziona bene vi prego guardate i camion tutti i mezzi pesanti perché tutti questi mezzi sistemano tutti questi mezzi hanno come unico sistema di ammortizzamento dei sistemi simili ad aria e lavorano perfettamente chiaramente sono molto più grossi perché devono essere dimensionate al peso però il sistema questo è un sistema ad aria ha chiaramente il giusto compromesso tra comfort rigidezza e prestazioni lo vedrete quando li monterò se un giorno mi riceverò a fare la spesa al momento sono al limite posso anche aspettare un altro po' però così vi lascio in sostanza senza sapere qual è il sistema che io ho fra virgolette già scelto per quanto riguarda l'assa anteriore invece qua davanti i problemi diciamo si manifestano maggiormente a seconda della tipologia del camper infatti per chi come me ha un semintegrale o un furgonato i problemi sono veramente pochi mentre magari chi ha un mansardato e un motorhome il cedimento della sospensione è abbastanza evidente perché deve sopportare un peso maggiore della struttura e anche quando magari affrontiamo le curve il coricamento laterale è molto più deciso perché il peso sul muso è veramente maggiore mentre su sinceramente su un semintegrale o su un furgonato il problema sarà molto molto ridotto in questi casi si può intervenire sostituendo sia le molle che gli ammortizzatori a questo punto va sostituito tutto il kit per ottenere il massimo risultato con alcuni più performanti e studiate apposentamente per supportare il peso maggiore come ho detto che è costante non è un furgone che ogni tanto leggero ogni tanto peso ma qui siamo sempre al massimo dei pesi quindi un sistema che consentirà di sopportare questo peso costante e questo porterà a un leggero anche il rigidimento delle sospensioni e quindi si sentiranno maggiormente l'asperità del terreno quindi va valutato anche questo discorso se non ne abbiamo necessità secondo me è meglio non farlo se invece abbiamo necessità perché affonda l'ammortizzatore non ce la fa eccede allora questo punto anche se diventeranno leggermente più rigidi le sospensioni non ci sono grossi problemi perché compenseremo con la comfort di guida e una stabilità migliore sinceramente sul manzardato che avevamo prima questo problema si sentiva abbastanza quindi in curva diciamo affondava molto mentre con questo il problema è molto molto limitato avendo un baricentro più basso perché non ha una manzarda non avendo un peso esagerato davanti il problema si risente veramente poco 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 perché come me guida abbastanza veloce diciamo io non sono proprio uno che va piano 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 potrebbe aver senso comunque limitare questo coricamento laterale durante le curve e specie qualcosa che invece si evidenzia molto su una curva contro curva quindi se uno fa sinistra destra sinistra quindi classica s questo coricamento si sente ed è abbastanza pronunciato chiaramente il mezzo peso e quindi lo fa e magari limitare questo spostamento del centro di gravità e del baricentro potrebbe essere buono perché così ridurremo molto il fenomeno dell'imbardata del rollio del beccheggio sapete cosa sono non so ora questo non sono cose che tutti sanno cosa sono però diciamo limitando tutti questi fattori si ha una guida molto più fluida beh come posso farvi capire cosa per esempio andate a 50 km orari e iniziate a sterzare sinistra destra sinistra destra sinistra destra di seguito ma continuamente e se non percepite il coricamento e le stabilità che avete creato sicuramente gli urli della moglie che si incavola perché fate cadere di tutto li sentirete benissimo ed ogni caso comunque capirete che il problema c'è ciao ragazzi